Il governo Schifani ha approvato tre nuove misure di sostegno alle piccole e medie imprese e ai liberi professionisti. A disposizione 155 milioni di euro. La giunta regionale ha approvato tre nuove azioni di sostegno economico alle piccole e medie imprese e ai liberi professionisti siciliani. Le misure di aiuto predisposte dall'Assessorato dell'Economia e dal Dipartimento Programmazione sono frutto della riprogrammazione di risorse per complessivi 155 milioni di euro dell'Agenda Europea 2014-2020 e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Il primo intervento da 70 milioni aumenta la dotazione finanziaria del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, al fine di sostenere gli investimenti o i progetti di sviluppo aziendale fornendo liquidità per le garanzie nelle operazioni finanziarie delle aziende. La seconda misura deliberata assegna 65 milioni di euro all'IRFIS per lo scorrimento delle graduatorie e dei beneficiari di aiuti per l'emergenza Covid. Fino ad oggi la Regione, attraverso il proprio istituto finanziario, ovvero l'IRFIS, ha assegnato prestiti fino a 100 mila euro per contenere le sofferenze delle imprese siciliane. Il nuovo stanziamento consentirà di estendere la platea degli operatori che accederanno ai finanziamenti. Infine, la terza misura è un sostegno da 20 milioni di euro destinato dal Governo regionale e con FIDI, i consorsi di garanzia collettiva FIDI, come da intesa tra le rappresentanze di categoria e l'assessorato all'economia, per facilitare le piccole e medie o credito, destinato a fronteggiare le esigenze finanziarie di operatori, liberi professionisti e partite IVA, indebolite dall'attuale congiuntura economica.